Momenti piuttosto concitati, quelli di ieri su Canale 5, nel pomeriggio di questo canale televisivo a Domenica Live condotto egregiamente da Barbara D'Urso. Infatti ospite come molte volte è stato della puntata di ieri, come lui stesso si sarebbe definito bioscultore Alberico Lemme. Questa volta per l'appunto si sarebbe scontrato Filippo Facci e Manuela Villa e poi però per l'appunto i toni si sarebbero fatti molto, molto forti. Facci avrebbe accusato Manuela Villa di determinate cose che non sto qui a ripetere. Il caso Lemme però avebbe dunque scaldato i toni all'interno dello studio, Barbara D'Urso avrebbe ricordato alla giornalista che sarebbe stato lui a cominciare la diatriba, si sarebbe alzato, si sarebbe prostrufato per l'appunto i ospiti in studio, non c'era niente da fare però ieri tutti gli animi si sono dunque scontrati l'uno con l'altro. la difficoltà da parte di Barbara D'Urso nel tenere testa e nel sedare i toni è stata molto difficile, insomma una situazione molto triste e negativa. Quindi ringrazio per l'ascolto, un saluto a presto.